Cari amici, buongiorno. Oggi voglio parlare di Deep Web, Dark Web e Internet di superficie. Si parla molto di... si utilizzano molto questi termini, però spesso c'è confusione quando si parla di Deep Web, Dark Web, si parla in una forma praticamente mitizzata. Cerchiamo di capire bene di che cosa si tratta e soprattutto facciamo un esempio, vediamo come si può navigare nel Deep Web. Allora, prima di tutto, Internet di superficie, Deep Web, Dark Web, tre cose completamente diverse. L'Internet di superficie è quella parte di Internet del Web a cui noi accediamo praticamente tutti i giorni, ed è tutta quella rete che viene mappata dai motori di ricerca. Google, Bing, Edge e così via. Questi raccolgono le informazioni presenti nelle pagine e effettivamente le vanno a indicizzare. In questa maniera, attraverso i nostri motori di ricerca, io posso andare a cercare e incontrare i siti con le informazioni di cui ho bisogno. Questo Internet di superficie si stima sia il 4% dell'Internet totale. Il 90% invece del rimanente 90% di Internet è costituito dal Deep Web. Il Deep Web non è qualcosa di illegale. È quella parte di Internet alla quale non si ha accesso diretto attraverso i motori di ricerca, ma bisogna avere un indirizzo ben preciso. Quindi sono tutte quelle pagine che non troveremo mai attraverso Google, Bing e così via, ma che sono perfettamente legali. Per esempio penso a reti interne alle università, nelle quali appunto si possono condividere, avendo il link preciso, dei documenti. Quindi sono quelle aree che possono essere utilizzate, questi siti che possono essere utilizzati dai giornalisti per cercare di proteggere le loro fonti. Quindi il Deep Web è quell'Internet che è tranquillamente accessibile attraverso i nostri motori di ricerca, i nostri brosa, ma non è indicizzato. Quindi non ci posso andare casualmente. Ben diverso è il Dark Web. Il Dark Web è quella parte, diciamo, del Deep Web, che non è raggiungibile attraverso i motori di ricerca comuni. Quindi se io vado a inserire anche delle parole chiave, dei siti che mi interesserebbero nel Deep Web, questi non vengono raggiunti. Perché questo? Perché in realtà il Deep Web utilizza delle reti private che si sovrappongono alla rete di Internet e non sono altro che reti di tipo peer-to-peer, quindi con dei nudi trappari. Il Dark Web è utilizzato per vari scopi fondamentalmente, ahimè, per condivisioni illegali. Quindi per esempio viene utilizzato per condivisione di film, contraffatti o piratati, crimini informatici. Ha anche un lato positivo laddove viene in qualche modo utilizzato per aggirare quelle che possono essere le censure dei reggibili dittatoriali. Però in generale nasconde qualcosa che normalmente è effettivamente illegale. Mentre come dicevo prima, per andare a navigare sul web di superficie o sul Deep Web basso un qualunque motore di ricerca, per navigare su quello che è il Dark Web servono dei browser appostiti come per esempio Tor. A questo punto vediamo come scaricare il browser Tor. Andiamo su torproject.org e andiamo a downloadare il browser. Possiamo scegliere il nostro sistema operativo, in questo caso Windows. Scarico il setup. Quindi lo vado a installare. Scelgo la lingua e l'italiano. Ok. Vado a installare il browser. Ed ecco che siamo connessi a Tor. Il fatto di essere connessi a Tor non significa che stiamo andando nel Deep Web. Anzi, come vedete, Tor utilizza un motore di ricerca che è DuckDuckGo. Quindi noi attraverso Tor possiamo fare le nostre semplici ricerche in quello che è il web di superficie, il surface web, senza particolari problemi. Anzi, in questa maniera l'utilizzo di Tor ci garantisce il perfetto anonimato nella navigazione e quindi una maggiore sicurezza. Quindi come vedete possiamo andare a fare ricerche di vario tipo, in questo caso ho fatto ricerche per esempio Wikipedia per quanto riguarda dei gatti. Quindi non stiamo ancora andando sul Deep Web o sul Dark Web, ma stiamo semplicemente utilizzando lo strumento necessario per fare delle ricerche, le classiche ricerche sul web di superficie. Vediamo ora invece come fare a navigare ed entrare nel Deep Web, faremo anche un esempio. Ovviamente per entrare nel Deep Web dobbiamo utilizzare, come l'ho detto, un browser che ci permette di scovare quelli che sono i siti internet completamente diversi da quelli a cui siamo abituati nel surface web. Sono siti che hanno un'estensione particolare, hanno un'estensione .onion. Ma serve davvero andare sul Deep Web? Beh, allora per l'utente medio onestamente non serve. Però dobbiamo sapere che effettivamente ci possono essere delle cose, dei siti abbastanza interessanti anche nel Deep Web. Per andare nel Deep Web, abbiamo già visto in un altro tutorial, bisogna utilizzare Tor. Ripeto, Tor è uno strumento che permette di accedere al Deep Web, ma è anche un motore di ricerca che può essere utilizzato tranquillamente in quanto utilizza DuckDuckGo per navigare in totale anonimato. Ebbene, vi voglio far vedere come funziona il Dark Web andando a vedere uno dei siti davvero interessanti del Dark Web. Sci-Hub. Sci-Hub è un database che ti permette di accedere gratuitamente a milioni di articoli e saggi scientifici. Beh, certamente non è perfettamente legale, però permette di scaricare milioni di articoli scientifici gratuitamente e di accedere agli articoli senza pagare. Attraverso questa sorta di hub scientifico si può avere così accesso a tutte quelle ricerche che sul web di superficie sono difficili da reperire e comunque sono costose. Molti database, infatti, di riviste scientifiche impongono abbonamenti anche abbastanza costosi e, quando volete andare a comprare un articolo scientifico, i prezzi possono essere molto alti. Certo, questo, ripeto, è un'attività completamente illegale, però vi voglio mostrare quale può essere una finalità positiva di questo Dark Web. Sci-Hub nasce, per esempio, con l'obiettivo di aumentare la diffusione della conoscenza, consentendo a più persone di accedere a pubblicazioni scientifiche che normalmente sono disponibili solo a pagamento. Se, quindi, da una parte vi è l'idea della condivisione del sapere, dall'altro lato, ovviamente, c'è il discorso dei costi del copyright, dei costi delle ricerche. Quindi, come dire, l'utilizzo di Sci-Hub è abbastanza controverso. Ad ogni modo, lo utilizzo proprio per farvi vedere come funziona il Dark Web. Allora, siamo su Google, vado a copio e incollare il link del Sci-Hub. Vedete? Mi dice, indice, sito non trovato. Stiamo parlando, infatti, di un sito .onion, che può essere, quindi del Dark Web, che può essere raggiunto solo attraverso Tor. Infatti, se incollo qui lo stesso indirizzo, quindi entriamo in quello che è appunto il Dark Web, ecco qua. Ecco qua, siamo in Sci-Hub, basta mettere un URL, un DOI, o comunque una indicizzazione di una pubblicazione per poter trovare la pubblicazione richiesta. Quindi, abbiamo fatto un po' di chiarezza tra Surface Web, Deep Web, Dark Web. La raccomandazione che faccio è di muoversi davvero con molta attenzione, e se è strettamente necessario, perché il Dark Web è pieno di siti che installano malware sui vostri computer, che utilizzano i vostri computer per attività di cui voi non siete neanche a conoscenza. Quindi, proteggetevi con anti-malware, con sicuramente un sistema WNP, che serve a nascondere il vostro ID, e andateci effettivamente solo se ce n'è reale bisogno. Grazie. 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 Grazie.